Tu hai detto giustamente che i giovedì bisogna credici, domani mi piacciono, buongiorno, vuoi capire per vincere, la squadra ha voglia, io ti chiedo se la squadra ha la forza mentale, perché giovedì sera mi ha colpito molto una sua risposta quando tu hai detto sul 2-0 la squadra si è lasciata andare, però una squadra che ha grande forza temperamentale, forse sul 2-0 non si deve lasciare andare, magari non ha più la forza, non lo so, non ha energia nel gol. Ah, questo lo devi dire a capo, ma ci sono stati civili di sbavimento perché, per come è stato la squadra, le scorse che ha fatto, l'abilità è per l'organizzare, probabilmente ha fatto una cosa in più delle loro possibilità, non lo so, ma, ripeto, deve essere un'arte assolutamente, dobbiamo essere nerviosi nel riappropriarci della nostra dimensione, che ci sarà un'arte assolutamente di qua. Grazie Grazie Grazie